I mezzi dell'anno Gennaio, Enero Gennaio, Enero Gennaio, Enero Febbraio, Febrero Febbraio, Febrero Febbraio, Febrero Marzo, Marzo Marzo, Marzo Aprelle, April Aprelle, April Aprelle, April Maggio, Maggio Maggio, Maggio Maggio, Maggio Junio, Junio Julio, Julio Julio, Giulio Agosto, Agosto Settembre, Settembre Settembre, Settembre ottobre, ottubre novembre, novembre novembre, novembre novembre, novembre dicembre, dicembre dicembre dicembre, dicembre dicembre è tutto per oggi ci vediamo dopo è tutto per voi alla prossima, suscríbete